È il momento di conoscere un'icona dello sport paralimpico, un esempio di forza, determinazione e resilienza. Lei è la rossa volante, la vogliamo conoscere così. Il cambio è la rossa volante, che se non sbaglio è proprio lei, il traguardo va a fare il secondo miglior tempo qui sul traguardo perché Alice Adena con quel problema è andata lontana, è andata dietro e allora Francesca Porcellato ci regala il terzo argento di questa... Francesca Porcellato, buongiorno! Francesca, benvenuta! Benvenuta! Francesca, io sono rimasta subito incantata da quelle due medaglie che sono lì accanto a te. Vogliamo dire che... ecco le stiamo vedendo, medaglie, ci dici? Allora sono due medaglie bellissime secondo me. Sì, ma quello confermiamo tutti. L'argento vinto a Tokyo con il paraciclismo. Che è valso come oro, possiamo dire. Che è valso come oro, certo. E Vancouver 2010, l'oro, vinto nel chilometro sprint. Sì, perché io sono un'atleta polivalente, ho iniziato con l'atletica leggera, sono passata allo sci di fondo, e poi al paraciclismo. Francesca, vogliamo fare un passettino indietro? Perché questi sono i tuoi successi, però c'è tanto lavoro per arrivare a questo. E dobbiamo raccontare un po' la tua storia a quando avevi 18 mesi. Cosa succede? A 18 mesi vengo investita nel cortile di casa da un camion in manovra. Sbaglia manovra, mi scambia per una bambola. Stavo giocando con i miei fratelli e altri bambini, e questo camion è entrato per chiedere delle informazioni. Francesca, prendi pure il gelato che ti porge Francesco. Grazie Francesco. Mi investe e fortunatamente ho delle lesioni, molte lesioni, ma nessuna letale. Dopo mesi di ospedale riesco ad uscire, ma viva. Per me è il mio secondo compleanno. In questo lo sport quando entra a far parte della tua vita Francesca? I primi anni dopo l'incidente subisco una grossa riabilitazione e proprio per riabilitarmi al meglio mi vengono dati dei tutori. Dunque non mi viene data una carrozzina, ma mi viene imposto di camminare con questi tutori, di muovermi con questi tutori. Ma all'età di sei anni, all'inizio delle scuole elementari, finalmente, dico io, decidono di darmi una carrozzina per rendermi più autonoma negli spostamenti. È stato un momento bellissimo per me, perché mi hanno regalato la libertà. Finalmente potevo muovermi liberamente e velocemente, soprattutto. Voglio dire che i sei anni prima camminare con i tutori è stato fondamentale per me per avere una riabilitazione. Infatti se oggi non ho la scogliosi, ho avuto una crescita normale, è stato grazie a questi anni di lunga riabilitazione. A sei anni mi danno finalmente questa carrozzina e quando salgo è come mi avessero regalato due ali. E lì è nato il sogno di farla correre veloce e veloce e di diventare un atleta. Diventare un atleta perché? Qui interviene l'importanza della televisione, del messaggio che viene dato in televisione, che entra nelle case. Io da piccola, per caso, avevo visto 30 secondi di una partita di basket e lì avevo capito che anche le persone con disabilità potevano fare sport. Dunque, quando mi è andata la prima carrozzina, io sapevo che si poteva fare perché c'era già qualcuno. Non avevo i contatti, ma sapevo che qualcuno già lo faceva. E dunque in me è nato questo sogno meraviglioso che io ho coltivato per anni. Perché all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, dunque l'attenzione sullo sport paralimpico non era così sviluppato. I mass media non se ne occupavano così frequentemente. Ho aspettato degli anni prima di approdare alla mia prima squadra sportiva, alla mia prima carrozzina da competizione. Ma nel frattempo mi sono allenata con la mia carrozzina da passeggio per farmi trovare pronta. Infatti a 16 anni, dopo molti anni, sono riuscita a incontrare una società sportiva che mi permettesse di fare sport. Da lì non mi sono più fermata e ancora oggi sto correndo. Francesca, ora che sei la rossa volante, che sei una campionessa, io vorrei sfruttare questo momento. Tu hai detto che per te è stata fondamentale la televisione. In questo momento sei tu in televisione. Ti puoi rivolgere direttamente tu a qualcuno che a casa forse sta attraversando un momento particolare, difficile della vita. Gli puoi dare quella carica. Ma guarda, intanto i momenti no nella vita ce li abbiamo tutti. Indistintamente. Chi per una cosa, chi per un'altra, nella vita è sempre un up and down. Ci sono dei momenti bellissimi e dei momenti meno belli. Ma noi siamo dotati di doti particolarissime. Che ti fanno affrontare queste situazioni. Anche se a volte sembrano insuperabili. Dentro di noi abbiamo questa forza. E se non ce l'abbiamo possiamo appoggiarci ai nostri familiari, ai nostri amici, anche a persone che non conosciamo. Ma che solo con un sorriso, una parola, tante volte risvoltano la giornata o risolvono dei problemi. E dunque di non chiudersi in se stessi, ma di cercare aiuto fuori, esternando le proprie difficoltà. E poi, che dire, mai mollare, crederci sempre. Perché dopo la notte esce sempre il mattino. E un limite a volte si trasforma in un'opportunità. Ma, guarda, i limiti sono fatti per essere abbattuti. E sono di stimolo. Perché noi abbiamo delle capacità incredibili che non conosciamo. E proprio queste difficoltà stimolano noi stessi a cercare la soluzione. E poi ci accorgiamo che siamo sempre molto più bravi, molto più capaci di quello che crediamo. Dunque, io dico sempre che le difficoltà sono un'opportunità. Non sono un ostacolo, uno stop, ma sono un'opportunità per crescere, per tirare fuori delle capacità più grandi. Il problema a volte è proprio nei nostri occhi, che non sanno vedere il mondo che ci circonda. Non sanno scorgere il bello delle cose, anche il bello che è in noi stessi. Per cui, o uno ha un carattere, una tempra di un certo tipo, come noi intuiamo che tu puoi avere, visto anche il palmarès di medaglie che attualmente hai. Oppure uno, come dicevi, deve trovare anche il modo per appoggiarsi agli altri, cercare uno sguardo. Che cosa è stato per te sostegno nella tua vita e in tanti momenti difficili? Ma allora, innanzitutto, sono stata fortunatissima. Sono nata in una famiglia che mi ha spronata, supportata, però mi ha sempre lasciata libera di scegliere e di fare le mie esperienze. ed è stato fondamentale per me, perché non è facile per una famiglia che ha una bambina con disabilità essere libera, lasciarla libera ed essere poco protettiva. È stata protettiva, mi hanno portato per mano, però non mi hanno mai ostacolato nelle... Non ti hanno messo sotto una campana di vetro? No, mi hanno sempre trattata come i miei fratelli. Mamma e papà mi hanno sempre detto, tu devi concentrarti in quello che hai, quello che non hai ormai non ce l'hai, non puoi camminare, ma le braccia le devi far fruttare, hai un cervello, hai un cuore, ecco, tu ti devi concentrare in quello. Ed è proprio così. Noi a volte dobbiamo cambiare il punto di vista, ci concentriamo tante volte nel nostro dolore, nelle cose negative che abbiamo, ma noi siamo bellissimi, noi siamo degli esseri umani bellissimi, abbiamo molte cose belle e se c'è qualcosa che non ci piace, qualcosa di negativo, ma abbiamo altrettante, anzi, molte di più cose belle, ecco, dobbiamo svoltare lo sguardo in quello che abbiamo e non con quello che ci manca o quello che ci duole. Sicuramente la famiglia è un grande supporto, ma anche gli amici, colleghi di lavoro. E a proposito di questo, Francesca, ti posso chiedere di Alex Danardi? Sì, allora, Alex è stato il mio compagno di squadra quando sono entrata nella squadra del paraciclismo ed è stata una grande persona. Devo dire che ci manca tantissimo, 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 perché come compagno di squadra, ma come amico, come barzellettiere, perché era colui che ci teneva allegri con il racconto delle barzellette e soprattutto anche come supporto, nel senso che ci aiutava tantissimo, proprio tecnicamente, con la messa a punto delle bici. Dove eravate in questa foto? Questa è la... eravamo in Toscana in una delle mie prime gare di paraciclismo. Avevamo appena vinto tutti e due, eravamo felici, noi ci conoscevamo già da prima. Io Alex l'ho conosciuto quando ancora non era un atleta paralimpico e poi ci siamo ritrovati appunto a far bicicletta assieme. Francesca, poco fa dicevi che rispetto a quando hai iniziato tu il mondo dello sport, dello sport paralimpico è cambiato tanto e anche proprio la percezione che se ne ha. Quanto è cambiato e quanto resta ancora da cambiare secondo te? Ma inizialmente veramente lo dovevamo raccontare, non avevamo filmati, non avevamo foto, dovevamo... lo sport paralimpico veniva vissuto tramite i nostri racconti. Oggi siamo in televisione sempre, anche oggi, in questo momento, a raccontare queste discipline bellissime. È cambiato totalmente, siamo diventati professionisti, perché comunque adesso con la visibilità e dunque l'entrata degli sponsor ci si può allenare a livello professionistico, ma soprattutto è cambiata la mentalità della gente. Quando vede una persona con disabilità, vede prima la persona e poi la disabilità. Fino a poco tempo fa era l'inverso. E questo è grazie allo sport, anche grazie allo sport che ha mostrato le doti che noi abbiamo, quello che abbiamo e non quello che ci manca. C'è ancora da fare, perché questa mentalità non è ancora cambiata del tutto. Dico sempre che siamo diventati bravi, non siamo ancora i primi della classe, ma siamo a buon punto, c'è sempre da fare. Io vorrei dire anche che lo sport paralimpico sta aiutando tantissimo anche il mondo della disabilità, sia con le attrezzature, con le protesi. Dunque le ricerche che vengono fatte per gli atleti paralimpici poi servono anche nel quotidiano per le persone che non sono atleti, ma che comunque hanno una disabilità nel quotidiano e aiuta anche a dare voce, soprattutto da voce a quelle persone che voce non possono averne. E dunque noi abbiamo, io penso che lo sport paralimpico, gli atleti paralimpici abbiano una grande responsabilità in questo senso, di aiutare quelle persone che non hanno voce e migliorare questo mondo che è bellissimo. Grazie Francesca. Francesca, tu sei una campionessa, sei anche un'imprenditrice. Qual è la tua prossima sfida, il tuo prossimo obiettivo? Perché tu non ti fermi mai. Allora, io sono nata per avere delle nuove sfide e non mi fermo mai. Ma è vero, questo è scritto nel mio DNA. La mia prossima sfida cos'è? Innanzitutto, educare ancora di più la disabilità. Perché non si parli più di disabilità, ma tutti possano avere gli stessi diritti. Ecco, la mia prossima sfida è proprio impegnarmi in questo senso. Siamo con te in questa sfida e ci auguriamo di vederti presto nuovamente qui in studio a raccontare delle tue vittorie della vita. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Francesca. Sappiamo che è il nome a cui sei molto legata, tant'è che ha dato anche il titolo al tuo libro. Al mio libro sì, la mia biografia. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.